Signori benvenuti con Starsand che praticamente è presente Grinnell ecco praticamente è Grinnell solo che è nel deserto e ci sono dei... ho visto che da un'immagine di sfuggita ho visto dei millepiedi giganti praticamente come quelli di King Kong quindi ho detto ok lo devo provare ah c'è anche una storia mentre proviamo l'ho malato nel deserto nel quarto giorno tempesta di sabbia bla 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 ci perdiamo vaghiamo al deserto eccetera 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 uuuh morti fine della demo questa è una demo ovviamente ragazzi non è gioco completo gioco completo non si sa quando uscirà oddio siamo questo ok ok e praticamente ho visto degli insettoni giganti Gesù ma scherzi da che cazzo di parte dovrei andare ma c'è un deserto più totale proprio della struttura là in fondo possiamo andarci eeeh ho visto dei millepiedi giganti mi ha ricordato un casino King Kong dai proviamolo vediamo com'è comunque si è praticamente ambientato nel deserto e semplicemente dobbiamo sopravvivere però con la struttura là in fondo magari potrebbe tornarsi utile è che se corriamo ci disidratiamo molto più in fretta quindi bisogna stare attenti Dio santo scuro che non ci siano robe tipo miraggi cose del genere perché cioè io mi ci butto ecco potrebbe essere già un miraggio questo comunque la mappa di gioco ho letto che è stata ridotta perché questa è una versione comunque dimostrativa quindi ho ridotto la mappa di gioco eeeh eeeh vediamo vediamo aspetta posso ricaricare la bottiglia volendo no non la seleziono ah ecco refill grande minchia qua ad esempio sarebbe il top farci la casettina ma scherzi si perché dobbiamo anche costruire ovviamente tutte le cose non ci sono di certo cocodrilli qua in mezzo chissà com'è il eh il crafting fare del crafting uff cosa possiamo antidoto oddio vuol dire che ci sono cose che pungono crude spear come si fa log stone cortege come si fa la log ok c'ho la pietra manca la corda facciamo che prendiamo ecco guarda qua cosa è sta roba una banana quattro addirittura craft a round knife eeeh come si fa ok ok oddio kill the mage ah ok 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 dobbiamo stare all'ombra in sostanza aspetta mi serve un'altra pietra wiii ma non possiamo buttarci sotto acqua comunque si ma perchè sto subendo danni stupidamente una rana oddio no oddio questa rana ha dei problemi sta leccando la sabbia oh la miseria non c'è un cazzo di sasso ma che succede ah ho trovato un sasso ok andiamo all'ombra dell'osi raw knife toffat io voglio farmi questo ma non ve lo fa fare ma perchè continuo subire danni a caso sto mentecatto se sono all'ombra porca puttana ma davvero i miloni è il deserto i miloni yucca questa se la ricordiamo da strande di prega si ma ah ecco sembrava strano crafting ok dobbiamo fare due di queste craft completion marker che cazzo è sta roba ma perchè utile quindi appare nella mappa una volta che lo piazzo praticamente è utile sta roba almeno si ritroviamo la strada qui all'osi praticamente vediamo se riesco a craftare credo che facciamo già noto paura banana tree bananas there eeeh everybody wants it qui c'è ancora un melone ma la yucca non si oh ecco la yucca ma sbaglio quella è una persona eeeh che roba che roba oh cazzo bello dromedario è un dromedario eeeh è un altro dromedario ahahahahah un altro dromedario eeeh ahahahahah aspetta gli do da mangiare dromedario e nutrita ma non la posso covalcare vuoi delle polle eeeh Devo stare attento agli scorpioni E tecnicamente arrivano di notte Che maledettissimi cosi Non ne sono sicuro che ci siano nella demo però Ma perché ha sempre sete sto stronzo? Manco fosse in un deserto dai Ok possiamo fare un fuoco adesso Direi a me dove lo piazza il fuoco? Oddio Sì sì Pieno di torce guarda Si sta abbassando molto la temperatura Ma è acceso il fuoco? Ah ok Forse adesso va Non lo so Secondo te funziona il fuoco? E se mi ci cammini sopra non è il massimo? Non mangiare Ma stavo dimenticando Ok bello senti Questo è il piano Se arriva qualcuno Tu urla Oddio lo stronzo sta cagando al freddo Ma sto cazzo di fuoco Ma è acceso? Uh uh Rohemp Che cazzo è Rohemp? Vedete mi sto finendo di congelare comunque Non proprio il massimo Mmm Mi sa che questo lo sventro Ed è dentro di lui Ok sapete che vi dico Io me ne vado Vabbè La regola è seguire i dromedari Forse no Vabbè comunque ha del potenziale Oh guarda c'è una casa lì Oddio non so se è la stessa in realtà Ma Potrebbe essere Ma forse no Cazzo ma sono delle rovine queste Ho trovato qualcosa di interessante Tipo la morte Cazzo sono sti rumori Sentite Dove farmi una ascia Oh che cazzo è successo? Oh merda Il ragione che vi dicevo C'è il ragione Non è un ragione Che cazzo dico Oh Tu la stai facendo Merda Oddio No vabbè non ci credo Ok allora Mi sono fatto L'arco Le frecce Adesso mi faccio un cazzo Di cappello di merda Oh no Me ne servono altro Fuck Potrei farmi anche questa Prova Cappello sia Porca merda Ok Craftato Tiè Tiè Guardatelo Un cazzo di Viet Cong È diventato Che cazzo è quella roba Ok Non so da che parte andare Onestamente Mi sono arrivato da lì E sono arrivato da questa Oddio via Ma che roba è quella Oh vedo qualcosa Là in fondo Let's go Ma come fa ad avere sette Se non è neanche Ma c'è il sole Come fa Tipo disidratare Poi una corsettina Così dai Gesù Maria Ok vediamo cosa c'è qua dentro Che diavolo è questo Fornace Spada Eh eh Minchia Detto Bene Backpack Ok con questo potremmo Portare molto più ruolo Ovviamente Bomba perché ho scoperto Qualche cosa Che non è comunque Disponibile La demo Perché cazzo Me l'avete messo C'è Aspetta facciamo così Eh vado di là Bevo acqua Faccio il pieno E poi vado a esplorare Ah c'ho 15 frecce oltretutto Pensavo di averne fatto poche Tipo 4 Ma ce ne ho fatto un botto Sto manteccato non corre più Pessimo segno Vabbè spero che non muoia Di colpo Dopo che non finisce Bevo bello acqua Guarda come sta crepando Guardalo Cavo bevi Ah si glitchia ogni tanto Sto cazzo Oddio Vabbè non capisco Perché si glitchia Tipo Oh Guarda adesso si riprende Ma vaffanculo C'è Vedi che La vita scende E sale così di colpo Stava salendo la temperatura Poi la vita è scesa Boh Che roba Vabbè io tipo Metà vita Devo affrontare sicuramente Quel cazzo di Mille piedi bastardi Vediamo quante frecce vogliono Prima di crepare Guarda Guarda la vita che sta salendo Sta salendo Pieno piano piano Ok Ehm Siamo pronti La battaglia La battaglia Chissà se ci sarà Oh ci sarà ancora Eccolo Fatevi avanti Perde Ah E muori E muori Mi lippi di bastardo E' morto Uuuu O si è bloccato O si è glitchato No credo Ve l'ho ucciso Porca te lo posso sventrare Il mio trofeo Pezzo di merri Dammi le mie frecce Oh ma fuori No Merda Ce ne altri Minchia Cos'è 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 l'ho ucciso C'è La testa gigantesca Oddio Dove ho Le frecce Oddio Cos'è Cos'è una sciabola Bella Una spadola gigante Cos'è questo che danni gli fa Un colpo di questo Ma Artefatto Un colpo di questo Lo taglio in due Il bastardo Io ho preso Quest'artefatto Che sarebbe Oddio Un nemico Un cannocchiale Tipo Left Glitter Divide Device Oh Non sono mai vissuto Il primo giorno E neppure Staccato due Di stoi Strolls Guarda Quello Affanculo Peccate Ma Scusa Cosa sono Queste cose Cioè Ma Posso farne qualcosa Tante idee Chi se ne frega Non è importante Devo tornare indietro Devo bere acqua Mangiare Nutrirmi A proposito Deve nutrirsi No Dato che Di farci ne abbiamo Io direi Di Beccare Quel bastardello Lì Ci facciamo Una bella Bistecchina Non so quanto Mi posso avvicinare La realtà Ma cazzo Miau Voto miau Ma l'ho preso Almeno Ma quanto Cazzo Cioè Bicchia Fa un tiro Da mezza Segelto qua Dove 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 Ecco Allora Merda Oh vi giuro Questo cosa Ammazza il dromedario C'è arrivato a sto punto Non ho aspettato Un aspettato È la mia occasione No No Ah Menchia ma porca Ah l'ho presa Lo voglio Totti do queste Ti ho metto le chelle Di qualcosa Oh Gesù bari C'è un po' di vento Oh che venticelle Pare di essere a Chicago Quindi tutto questo è credo che mi ammazzano Certo Cioè stavano talmente bene che il gioco ha detto Vabbè basta Sono creepy Lentamente decedendo Oh merda Un camaleonte Questo è un camaleonte Muori Oddio Hai capito Hai capito E' a minculo l'inventario Oh ci ho che questo a mangiare Stavo morendo di fame per nulla Ci metto la carne a cuocere Vediamo se cuoce Legno Ah ecco Ho sicuramente sbagliato io qualcosa Oh ma sta carne di merda non cuoce Ma sto scherzando Cazzo è sta roba Ma come Ma finisce così Ma come Ma devo dire che comunque sia Devono lavorarci sopra Le idee sono carine Ma c'è veramente Pochissimo Anche per una demo Era pochissimo Era una saggina Ma comunque sia Beh Non lo so Vedremo successivamente se Lo porterò quando uscirà ragazzi Grazie Grazie